ciao a tutti sono candida e benvenuti sul mio canale e oggi voglio realizzare insieme a voi una decorazione di Pasqua quest'anno sarà una Pasqua molto molto particolare dal momento che saremo costretti a stare in casa e quindi anche voi come me immagino eravate abituati a passare Pasqua Pasquetta insieme a parenti amici e quest'anno ahimè non sarà così perché ormai Pasqua è alle porte e quindi immagino che non ci sarà ancora modo di poter riprendere a fare una vita normale quindi io pensavo di rendere ancora più bella la casa il giorno di Pasqua decorarla ancora ancora di più proprio perché così in modo da passare una giornata comunque nell'insegna della felicità della positività perché penso che sia veramente importante in questo periodo rimanere concentrati sulle cose sulle cose belle sulle cose positive per per poter andare avanti per passare il periodo e ricominciare poi la nostra vita la nostra vita normale che ormai comincia a mancare dal momento che i giorni diciamo di quarantena cominciano a diventare tanti quindi oggi voglio fare questa decorazione che vi faccio vedere da mettere sulla tavola sulla tavola di Pasqua io ne ho già realizzata una così ve la faccio vedere finita praticamente non è nient'altro che un bigliettino che nel momento in cui lo dovete riporre rimane piatto ma da mettere nel piatto o comunque sulla tavola rimane in questo modo qui quindi vedete che è un bigliettino dove ho messo un augurio di buona Pasqua io penso che li metterò nei piatti ne farò uno a testa o comunque si possono anche fare e mettere e mettere al centro tavola per addobbarlo io ho messo il coniglietto lovetto di Pasqua poi avevo delle piumette questo chiaramente da fare con con quello che si ha a portata di mano in questo periodo però per realizzare questo lavoro io ho deciso di fare una cosa allora visto che ci tengo veramente che più persone possibili che possono appunto abbellire abbellire questo giorno di Pasqua e di Pasquetta ho preparato un foglio ve lo faccio vedere è questo foglio qua in cui trovate degli ovetti e dei coniglietti e dove ho messo anche Buona Pasqua e Happy Easter in inglese per chi vuole la scritta in inglese per realizzare questo questa decorazione e questo foglio vi lascio il link nella descrizione del lavoro del tutorial e voi lo potrete scaricare e stampare gratuitamente così se avete piacere di utilizzare proprio diciamo la decorazione che ho che ho fatto io potete potete farlo quindi detto questo vi faccio vedere come realizzare proprio il segna posto lascio la pagina qui allora è una cosa veramente semplice che si fa in anche in pochissimo tempo quindi vedrete che non che non ha nessuna difficoltà allora come base io sono partita da un foglio a 4 ma potete partire da qualsiasi foglio da qualsiasi avanzo da qualsiasi cosa abbiate in casa non c'è nessun problema allora dobbiamo andare a tagliare i pezzi che compongono il mio bigliettino vediamo se lo lascio lì non so se riesco così potete vedere allora facciamo così vediamo se riesco a lavorare e ve lo lascio qua così vedete allora taglierina praticamente devo tagliare un primo foglio che è la base diciamo la struttura del mio del mio segna posto che è un 22,5 devo spostare un attimo così allora così allora 22,5 mi metto gli occhiali perché sennò sbaglio come al solito devo mettere gli occhiali perché sennò non vedo nulla anzi facciamo così per non sprecare tutta la per recuperare una quantità maggiore di foglio taglio prima la parte stretta che è 10 centimetri in questo modo qui quindi taglio 10 centimetri così mi rimane una parte di foglio più usufruibile per eventuali altre cose per 22,5 sul mio foglio che sarà la base quindi la parte più lunga della struttura del mio bigliettino vado a fare due pieghi quindi uno a 13,5 quindi qui e uno a 19 centimetri così quindi vado a fare due pieghi e chiuderò in questo modo il 13,5 in questo modo e il 19 in questo modo qua quindi questa è la base della mia decorazione ora andiamo a tagliare un fogliettino 10x10 quindi 10x10 semplice semplice e un altro bigliettino 11x9 quindi 9 e questo è esattamente 11 quindi la manzi un po' di meno quindi togliamo un petchino 11x10 in questo modo qui ora queste sono possiamo togliere la taglierina perché questi sono praticamente la base questi tre fogliettini sono la base per realizzare il mio il mio segnaposto dal momento che praticamente andrò ad incollare semplicemente vi farò vedere come i tre pezzi e avremo la nostra struttura come prima cosa andiamo incollare il cartoncino 10x10 in questo modo sulla struttura di base quindi abbiamo fatto i pieghi così adesso andiamo a mettere la colla solo su questa parte stretta colla per carta va benissimo quindi in questo modo così che andiamo ad incollare il mio bigliettino puliamo bene perché qua si sta ok andiamo a mettere il mio bigliettino in linea con la parte superiore della struttura scusate in questo modo qui quindi semplicissimo andiamo a metterlo in linea in alto e poi schiacciamo nella parte dove abbiamo messo la colla quindi praticamente avremo il mio cartoncino che è incollato solo nella parte dove avevo messo la colla quindi così e si può muovere in questo modo qua guardate così quindi questo sarà praticamente questa parte che noi andiamo ad alzare in questo modo ora per poter bloccare il mio la mia decorazione devo andare ad incollare l'altro pezzo che poi si fermerà qui sulla scritta per cui cosa devo fare devo andare ad incollare questo lascio aperto così questa parte quindi il bigliettino che abbiamo detto essere 11 per 9 in questo modo qua in modo che rimanga a filo invece con la parte sottostante centrato in modo che quando io chiudo la mia struttura rimane perfettamente chiusa in questo modo ora per fare prima di fare questo lavoro però cosa voglio fare voglio andare a decorare la parte sottostante perché se vado ad incollare il mio cartoncino dopo non posso più farlo quindi prima decoro solo questo questa questa parte qua poi possiamo decorare tutto il resto allora come come facciamo io ho già ritagliato dei pezzettini di carta che utilizzerò per decorare il tutto pezzi di carta che vi faccio vedere in questo caso ho ritagliato da dal mio download digitale collage uno credo che si chiami che trovate così sono solo due fogli ma ce n'è un terzo e ci sono anche degli degli abbellimenti che trovate sul mio negozio pezzi online nella descrizione vi lascio sempre il link di questi miei fogli digitali quindi ho ritagliato già dei particolari li vado a passare con il di stress allora chiaramente ho ritagliato la mia carta leggermente come faccio sempre più piccola del supporto in cui devo andarla ad incollare per cui in questo caso specifico dal momento che il foglio il cartoncino era 10 per 10 il mio la mia carta decorativa l'ho tagliata 9 e mezzo per 9 e in modo che una volta appiccicata vedete mi rimane un pochino di bordo quindi sempre con la mia colla vado a passarla qui completamente su su tutto il mio fogliettino in questo modo e vado a incollare la mia carta di decorazione centrandola così ad occhio sul supporto schiacciamo bene così ora avendo incollato la mia carta posso andare ad unire l'ultima parte del supporto e cioè il mio cartoncino che andrò ad incollare in questo modo qui allora intanto passo col distress il cartoncino perché una volta incollato poi non lo posso più fare quindi lo passo subito così e faccio che passare anche tutto il mio supporto perché io lo voglio con tutti i bordini resi un po vintage dal mio distress quindi lo vado a passare dappertutto molto velocemente così a me piace sempre passarlo un po dappertutto e guardate lo passo anche in questa pieghetta qui visto che poi ok così quando è visibile anche dal dall'interno passo ancora un po qui nell'interno perché si vede poco ok così anche questo lavoro qui è fatto perfetto poi se avete piacere nei commenti lasciatemi scritto che cosa come decorate voi la vostra la vostra casa quando è il periodo di pasqua quindi fatto questo cosa faccio vado ad incollare il mio supporto in questo modo ora vedete che dovrò mettere la colla chiaramente solo su questa su questo lato qua su questa parte qua perché il resto deve chiaramente rimanere libero quindi vado più o meno a segnare lo faccio con questo guardate perché in questo momento non ho una matita ma è l'arte dell'arrangiarsi quindi ho segnato con il bulino un riferimento voi potete segnarlo con una matita qualsiasi cosa in modo da sapere che praticamente devo andare a dare la colla sul supporto solo fino a questo punto qua quindi vado a dare la colla prendo solo un foglio un foglio bianco da mettere sotto così evito di sporcare tutto quindi questo è il mio segno me lo faccio anche da questo lato qui così ok e vado a dare la colla sul supporto in questo modo qui con la per carta va benissimo perché attacca bene ok ora praticamente vado a fare come ho fatto dall'altra parte vado a prendere di riferimento la parte bassa quindi vedete che una cosa semplicissima lo centro ad occhio così vado ad incollare dove ho messo la colla si incollerà e la parte sotto rimarrà libera quindi praticamente vedete che la struttura è finita perché io posso alzare il mio supporto e poi lo bloccherò con la mia etichetta vi farò vedere come a questo punto non mi resta che andare ad incollare intanto le le parti interna vedete questo è sempre un fogliettino che ho ritagliato dal mio download collage sull'azzurro quindi lo passo un attimino col distress così prima di incollarlo e poi vado a mettere la mia colla così velocemente passo la colla ok e andiamo a incollare qui lo metto con i fiori rivolti verso alto così sulla parte interna della mia struttura in questo modo così mentre sulla frontale dove andrò ad incollare il mio uovo e il mio coniglietto vado ad incollare un semplicemente un pezzo di foglio di libro che vado sempre a sforzare col distress così velocemente che vado ad incollare quindi mettiamo un po di colla vedete che sono anche proprio veloci da fare non immaginate se ne tagliate più di uno tagliate i pezzi incollate fate veramente in fretta così in questo modo qua ok a questo punto il supporto è montato è finito non mi resta che finire il tutto con le decorazioni allora io come vi ho detto dal mio foglio che trovate nella descrizione e che potete scaricare e stampare gratuitamente ho già ritagliato due ovetti che sono uno e due perché allora in questo caso era per farvi vedere un po in questo caso ho utilizzato un ovetto e un coniglietto dove ho messo vedete del fiocco con che ho fatto con del filo che avevo in casa delle piumette e i fiori del mio download digitale in questo caso lo voglio farlo diverso così vi faccio vedere un'altra un altro un altro modo per decorarlo io e ho ritagliato i due ovetti che trovate sul sul mio foglio nello specifico questo e questo ora cosa ho già fatto sono andata ad incollare dietro i due ovetti un pezzettino di cartoncino questo per renderli un pochino più rigidi altrimenti la carta è sottile e rimangono un po molli quindi li ho irrigiditi in questo modo adesso prima di andarli ad ad incollare sul supporto li voglio decorare allora in questo caso ho deciso di decorarli così voglio incollare vediamo un po dove l'ho messo se lo trovo perché mi ero fatta un'idea adesso magari non trovo più i pezzi sarebbe il colmo sono sicura eccolo qua ero sicura di aver pensato di metterne due allora questi sono dei fili anche qua sono resta utilizzando tutto materiale che avevo che avevo in casa quindi volevo volevo in questo caso mettere ecco due pezzettini di corda in modo da decorare in questo modo il mio il mio vetto per cui vado a prendere questa colla qui che più tenace e vado a metterla in questo modo qui facciamo la prima striscia allora metto sotto un fogliettino di carta perché non voglio che si sporchi di colla il mio piano di taglio perché non vorrei che poi mi rimane macchiato quindi vado ad incollare così il mio spago ora vado a mettere ancora un po' di colla sotto così e vado ad incollare la seconda parte in questo modo qua adesso bisogna dargli un attimino il tempo che asciughi e vado a mettere la seconda parte vicina vicina così ecco l'idea era questa adesso vediamo se tenendo premuto riesco a farlo asciugare abbastanza in fretta così possiamo procedere vi faccio intanto vedere vedete ho attaccato questi due pezzi così di spago poi se avete potete mettere del nastro tipo del pizzo quello che io ho deciso di usare questo ora con la forbice vado a tagliare la parte in eccedenza quindi così e così ok eccoci adesso quando poi la colla si asciuga diventa completamente trasparente e da questo punto sopra questo ovetto andrei ad incollare un fiorellino che potrebbe essere questo o anche uno più piccolino magari vediamo un po' sì mi piace di più allora questi sono invece dei fiorellini che ho realizzato utilizzando il foglio che trovate sempre sul mio canale dei fiori che ormai vedete in tutti i miei lavori li ho praticamente ritagliati incollati uno sull'altro e messo una perlina per abbellirli un po' quindi in questo caso direi che questo mi sembra troppo grande non mi piace andrei ad incollare questo qui che mi sembra più carino quindi vado a mettere la colla i fiori chiaramente li ho già preparati prima perché altrimenti la cosa diventava troppo lunga quindi vado a mettere un mio fiorellino qui così aspettando che si asciughi vedete? così mentre per quanto riguarda invece il secondo ovetto questo lo voglio proprio decorare con i fiorellini più piccoli che sono questi che sono proprio ritagliati sono un fiorellino solo dove sono andata ad incollare sopra una perlina e quindi li voglio mettere in questo modo qui dovrebbero starcene quattro vediamo un po' se li sovrappongo un po' sì allora cominciamo ad incollarli vediamo se esce un po' di colla ce la facciamo sì bisogna mettiamo il primo proprio sul bordino alterniamo un po' i colori così adesso ho utilizzato questi due colori che mi sembravano più giusti per questo caso ma nei fiori ce ne sono ce ne sono vedete un po' per tutte le necessità quindi con tutte le varie sfumature di colore che potete utilizzare per diversi lavori quindi mettiamo il terzo così e poi ho anche realizzato degli ovetti di polistirolo con questi fiorellini incollati sono venuti carini semplici e carini ok questa è l'idea aspettate che incollo perché si l'ho spostato era perfetto ma l'ho spostato io ok così ve lo faccio vedere rimangono tridimensionali quindi sono belli quindi ecco questi sono gli ovetti che ho decorato adesso andrei ad incollarli sul mio supporto e poi finiamo con le decorazioni allora spostiamo questo foglio vediamo un po' come incollarlo allora gli metterei uno così ed uno così quindi o meglio facciamo così magari il contrario sì faccio il contrario perché così questo è giallo e come dire emerge un po' di più dal fondo intanto passo il distress anche sugli ovetti così dovevo farlo anche prima ma non importa perché così rimangono più tridimensionali una volta che li andiamo ad incollare sia uno che l'altro in questo modo e adesso andiamo ad incollarli quindi ho detto incollo prima questo quindi mettiamo la colla così lo incolliamo un pochino storto e l'altro lo incolliamo qua chiaramente dobbiamo andare a creare un pochino di spessore nella parte nella parte bassa perché altrimenti non verrebbe incollato solo qua e non toccherebbe da quella parte quindi cosa faccio vado a mettere un pochino di cartoncino oppure delle che dovrei averle che faccio prima dell'adesivo un po' più spesso eccolo qua così non ritardiamo tempo vado a mettere dei pezzettini di adesivo un pochino più spesso ok uno ne mettiamo due sono sufficienti qua ok in modo che vadano a toccare bene sul fondo mentre qua andiamo a mettere la colla così rimane in linea per cui togliamo la casta sull'adesivo via uno e via due ma potevate mettere anche del cartoncino l'ho fatto così semplicemente per fare un pochino più in fretta così guadagniamo tempo e vado ad incollare in questo modo qua ok così sono rimasti vedete in linea ora possiamo ancora decorare un pochino questa questa parte che è rimasta vuota tipo possiamo mettere un fiorellino qui e volevo anche provare a mettere da qualche parte un fiocchetto quindi vado a fare un fiocchetto eccolo qua e vediamo dove possiamo andarlo a mettere perché i fiocchetti vanno sempre bene lo vorrei mettere proprio in un punto che poi rimane che ciondoli un po' così potrebbe essere tipo qui così mi piace allora facciamo così vado ad incollare questo fiorellino qui lo mettiamo qui in questo modo qua così poi vado qui ho tutti i fiori che ho già i miei fiorellini che ho già ritagliato dove ci sono anche delle foglie che vado a prendere che sono qua eccole qui delle foglioline ok adesso le scegliamo perché vedete che sul foglio ci sono anche delle foglie da ritagliare quindi io ho ritagliato le foglie vado a prendere queste un po' più grandi che in questo caso mi piacciono di più e le vado ad infilare qua sotto il mio fiore così perfetto ok vedete che così è più bellino ora anzi potrei metterne una anche qua guardate tipo sì mettiamola anche qua che così rimane più bello la colla sta un po' finendo e quindi fa fatica a scendere quindi infiliamo qui e mettiamo anche qui eccoci la nostra fogliolina vedete che rimane più finito ok mentre il cuore allora vado a tagliare questa parte così un po' più lunga perché mi piace proprio che rimanga più lunga quindi così ok e questo qui lo andiamo ad attaccare qua per cui mettiamo la colla e lo appiccico qui così tengo solo un attimo in modo che prenda la posizione giusta e ok così non si dovrebbe più staccare quindi vedete che il frontale è questo adesso poi pensavo di mettere ancora due paillettes ma dopo le incolliamo alla fine ora invece allora sposto i miei le mie foglioline perché le userò magari dopo andiamo a creare il fermo per bloccare in questo modo il supporto quindi come facciamo allora ho ritagliato la scritta buona pasqua la passo col distress così è in tema col tutto in questo modo qui ora vado ad incollare un pezzettino di cartoncino sotto in modo da dargli anche a questo un po' di rigidità quindi qua possiamo usare tranquillamente la colla per la carta in questo modo qui andiamo ad incollare qui così al centro in questo modo dopo di che vediamo se basta vedete che il fatto di aver creato uno spessore sotto non è necessario che sia tanto grande uno spessore sotto la mia scritta praticamente cosa fa lo tiene sollevato dal fondo quindi quindi la mia cartolina si va a bloccare così e rimane bloccata dopodiché per chiuderla basterà metterla sopra per cui andiamo ad incollare io direi qui allora vado a mettere colla sempre per la carta così e lo incollo un pochino qui sul sul fondo e sul bordo e poi anche qui vado a mettere un mio fiorellino così una volta aperto rimane coerente con il frontale qui così incollo e vado a mettere anche qui la mia fogliolina che rende il tutto più completo così metto solo la colla sulla punta in modo che quando io vado ad incollarla la parte alta vedete posso lasciarla sollevata come ho fatto anche qui e anche qui così da proprio l'effetto tridimensionale chiudiamo la colla perché se no si secca il tappo di questa l'ho perso perfetto dopo dovrò fare in modo che non mi si tappi dovrò stappare un pochino il buchino ecco a questo punto abbiamo incollato con un minimo di spessore che vedete c'è sotto che mi permette di una volta appoggiato volendo potrei anche addirittura fermarlo sulla foglia però io vado oltre così e rimane fermo posso fermarlo sulla mia fogliolina oppure posso andare oltre ma a questo punto se vado oltre metto una fogliolina anche sotto così perché voglio che si vedano per cui ne prendo un'altra eccoci qua e la mettiamo sotto un po' di colla e la incastriamo qui così così nel momento in cui vedete così rimane più bello e nel momento in cui io lo vado a chiudere comunque si vede anche la fogliolina sotto e questo è il mio segna posto la colla non è ancora asciutta aspettate un attimo che sono stata un po' maldestra l'ho toccato e la colla deve ancora prendere bene eccoci qua non devo toccarlo finché non si asciuga bene quindi questo è il nostro segna posto oppure la nostra decorazione chiaramente se volete potete mettere la carta per rifinire anche la parte posteriore come preferite io adesso l'ho lasciato più semplice così quindi ne abbiamo uno e questo è quello che avevo già preparato per farvi vedere due versioni differenti una con l'ovetto e il coniglietto e l'altra con i due ovettini quindi ricordatevi il mio foglio da stampare da scaricare e stampare gratuitamente per realizzare le nostre decorazioni spero che anche il video di oggi vi sia piaciuto e spero che con questo sistema riuscite veramente ad abbellire la vostra tavola e non dimenticate di condividere questo video così più persone possono scaricare stampare e preparare questo lavoretto che direi che è semplicissimo però secondo me è un bel modo per rendere più felice la tavola di Pasqua come dico sempre se avete dubbi o domande scrivetemi e sarò felice di rispondervi e se non siete ancora iscritti al mio canale e avete piacere di farlo iscrivetevi così mi aiuterete a farlo crescere detto questo do un abbraccio virtuale a tutti mi raccomando pensieri positivi per far passare più velocemente possibile questo momento così particolare e buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro ciao ciao